due libri oggi a terza pagina e apriamo subito con quello che è tuo e il mio l'ultimo romanzo di luisa mattia due ragazzi prima e tre ragazzi dopo costruiscono un legame e questo legame si sfascia si rompe si sfilaccia si ricompone come accade sempre nella vita però la loro vita che io ambiento in un mondo prossimo venturo non così lontano per come la vedo io è un passaggio a che fare con un passaggio importante che è il passaggio della loro crescita e anche la costruzione di un sogno qualcuno gli ha dato un sogno che è il sogno delle tre città e loro pensano che così come sono oggi nel momento in cui sono amici e si vogliono bene continueranno ad esserlo in queste tre città nel carattere delle scelte dei ragazzi si avverte molto che il desiderio comunque di permanere in un legame sia fortissimo ognuno di loro ha commesso degli errori ognuno di loro si è allontanato ognuno di loro ha fatto delle scelte anche contro l'altro ma il fatto che si facciano delle domande vanno a cercare cosa resta li porta a capire che resta tantissimo che resta quel patto di affetto di ricerca di progetti di proiezione sul futuro che soprattutto quando hai 14 15 16 anni è una piattaforma essenziale per potersi sentire pronto ad assumere un identità e un ruolo nel mondo da tau editrice esce sorelle piante di paolo luzzi una lettura puntuale completissima che ci racconta quanto sia verde l'immaginario francescano partendo idealmente dall'eremo della verna dove si dice che la prima dimora di san francesco sia stata il cavo di un faggio il saggio fonti alla mano segue tutte le citazioni che riguardano alberi e piante in generale negli scritti francescani dalla leggenda maggiore alla vita di tommaso d'accelano fino al trattato dei miracoli ma approfondisce anche il valore simbolico degli alberi sia nella bibbia che nelle principali mitologie da quelle scandinave con il frassino che costituisce l'asse del mondo fino a quelle orientali al mondo italiano